ciao ragazzi da oggi nuova rubrica per voi si intitola speedy ricette sono ricette realizzate con lo smartphone molto facili e veloci da preparare la prima speedy ricetta sarà tortino di funghi andiamo a vedere cosa occorre per prepararla per preparare il tortino di funghi occorrono circa 400 g di funghi già tagliati a fettine pan grattato un etto di prosciutto cotto scelto del sale fino del pepe macinato fresco dell'olio d'oliva e dell'aglio in polvere andiamo subito a vedere come si prepara versiamo un filo d'olio sul fondo della nostra teglia e copriamolo tutto con uno strato di fettine di funghi uniamo poi il prosciutto cotto tagliato un po' grossolanamente poi la mozzarella tagliata a dadini un po' d'aglio in polvere del sale e del pepe ed infine il pan grattato ripetiamo la nostra operazione con un altro strato di funghi del prosciutto cotto della mozzarella pan grattato olio sale e pepe ed inforniamo a 200 gradi per 45 minuti in forno statico ed ecco pronto e fumante il nostro tortino di funghi appena sformato spero proprio che queste video ricette speedy vi piaceranno io vi mando un bacione vi aspetto alla prossima ricetta ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti